Questa è Jennifer, la ragazza più popolare al nostro college. Jennifer, possiamo farci un selfie? Avrò un milione di like! Jennifer, ti amo! Ti amo tanto! Tu! Neanche per sogno! Jennifer è anche la ragazza più ricca del nostro college. Ragazze, guardate il mio nuovo braccialetto d'oro! È il mio nuovo diamante! Nicole, puliscite la bocca! È un tovagliolo! Prego, signorina! Ma è una banconoto! D'accordo! Wow! È la cosa più costosa del menù! Mangio questa roba ogni giorno! Ecco il vostro conto, signore! Wow! Quanto? Ragazze, offro io! Che noia! Non si può comprare la felicità! Vediamo cosa c'è su Instagram! Oh no! Qualcuno ha smesso di seguirmi! Oddio, questo è un disastro! Un incubo! Questo è la fine! Maggiordomo! Ho bisogno di rilassarmi! Ecco il suo gelato d'oro, signorina Jennifer! Solo il gelato d'oro può curare il dolore che ho nell'animo! Sono così infelice! Instagram non mi ama più! Jackpot! Quanto oro! Quanti tesori! Prendi tutto! Aspetta! Il caminetto? Prendiamo anche questo! Tieni! Ehi! Cosa sta succedendo? Ultime notizie! Rapina del secolo! La donna più ricca della città è rimasta senza un centesimo! Ladri non identificati hanno fatto irruzione nella casa di Jennifer e hanno preso tutti i suoi effetti personali! Adesso è al verde! Adesso è povera! Cavolo, guardala! Ciao ragazzi! È una tale tragedia! Hanno rubato tutto! Meno male che ho ancora voi! Ecco il vostro conto, signore! Paga lei? Aspetti! Offri tu come al solito, Jen! Io? Ma non ho un centesimo! Allora non sei più la nostra amica! Cosa? Come potete? Pensavo fossimo amiche! Aspetta! C'è un posto libero al nostro tavolo! Rimedieremo subito! Troverò dei nuovi amici! Uh, pizza! Ora è tutto quello che voglio! Mentre nessuno mi vede, ne mangio una fetta! Stai cercando di rubare la mia pizza? Sto scherzando! Buon appetito, bellezza! Grazie! È molto gentile da parte tua! Sei una regina o cosa? Devi mangiare la pizza con le mani! Non essere timida! Così? Per carità, non sono un cavernicolo! Posso prendere il tovagliolo? Grazie! Cosa? In effetti è divertente! Mi hai convinto! Mangiare la pizza con le mani è ancora meglio! Sai che c'è, Tommy? Non ho soldi! Per niente! Neanche uno! Niente di grave! Ops! Neanche io! Allora che facciamo? Corriamo! Un momento! Chi pagherà il conto? Dovremmo ripagarli lavorando! Odio lavare i piatti! Essere ricca era così bello! Piovevano soldi ogni giorno! Ragazzi, adesso pulite la sala principale! Al lavoro! La gomma! È proprio dura! Il mio corpo delicato non è abituato a questo! Ma un'idea! Ora questo ristorante è solo self-service! Posso riposarmi! Adesso che vuole? Cameriera, ho finito! È self-service! Ma da quando? Mi dispiace! È un terribile malinteso! Jennifer! Odio pulire! Jennifer, guarda! Non è una fortuna! Tommy, guarda! Ho trovato un linguetto d'oro! Sono di un'uovo ricca! Sì, questo è il mio giorno fortunato! Wow, congratulazioni! Fammi vedere! Oh no, è solo una barretta di cioccolato d'oro! Ma ora possiamo fare pane e cioccolato! La cena è servita! Buon appetito, Jen! Che ottimo pranzo! Cameriere, ecco il conto! Grazie! Altri piatti sporchi! Wow! Quanti soldi! Mi siete mancati così tanto! Sono di nuovo ricca! Questi sono per il pranzo, vedi? Devi consegnarli! No! Sì! Voglio tenerli! No! Ecco la tua mancia! Praticamente niente! È ingiusto! Un giorno diventerò di nuovo ricca e farò cadere soldi ovunque! Cameriera! Oh no! Le mie malvagie ex amiche sono laggiù! Non voglio vederle! Testa alta, Jen! Va bene! Oh! Sarebbe la nostra Jennifer! Prendi il mio cappotto! Era una di noi, sai? Come va? Stanno ridendo di me! Ci penso io! Facciamole abbassare un po' la cresta! Signore, ecco la vostra acqua! Oh, mi dispiace! Non volevo farlo! Tommy, cosa hai fatto? Mi dispiace tanto, signore! Vieni qui! Sei nei guai adesso! Qualcuno ha visto questa donna? Eccola lì! Jennifer, è lei? Abbiamo ottime notizie! Avrà indietro tutti i suoi averi! Io? Wow! Grazie! Ma come mai? Abbiamo catturato i ladri! Rubare è sbagliato! Non lo faremo mai più! Grazie, gente! Jenny, sei la migliore! Andiamo a sederci al nostro tavolo! No! Addio, traditrici! Noi ce ne andiamo! Tommy, vieni! Non perdere nessuno spettacolare video di WooHoo o Motion!